Musica Al comunale Salvatore Lentini di Mistretta si affrontano città di Mistretta e real calcio finale di Pollina. Una partita che vale molto di più per gli ospiti di Mister Cinquegrani che cercano importanti punti salvezza. Per il Mistretta invece che ha raggiunto da tempo l'obiettivo salvezza e che ha visto sfumare da poco il sogno playoff una partita come tante altre. Al fischio d'inizio del signor Lo Verde di Enna si capisce subito che le motivazioni del real calcio sono superiori e infatti al dodicesimo Cicero avrebbe l'occasione per segnare ma sbaglia e al quattordicesimo ancora la squadra dei Cinquegrani a rendersi pericolosa con Longo. Al diciannovesimo si vede per la prima volta il Mistretta col capitano Michele Paone che lascia partire un forte tiro a girare dal limite dell'aria che trova preparato il portiere Bruno che smanaccia in angolo. Dopo questa occasione un'altra tegola per il Mistretta. Infatti Paone accusa un guaio muscolare ed è costretto ad abbandonare il campo e a suo posto entra Provenzale. La ripresa si apre come il primo tempo con un real calcio intraprendente e un Mistretta che si limita a gestire la partita visto che dopo l'uscita di Michele Paone mister Randazzo ha dovuto inventare l'esterno destro Ciccio Filetto attaccante. Il real calcio cerca di vincere la partita ma dal decimo al ventiduesimo della seconda frazione spreca l'impossibile. Prima con Vitale poi con Cicero al diciassettesimo della ripresa con Città e al sessantaduesimo di Lorenzo su punizione trova l'ottima risposta del giovanissimo portiere Agozzino. Al sessantacinquesimo ancora un'occasione con Cicero e al sessantasettesimo il capitano Città si fa ribattere il tiro da Agozzino. A questo punto sale in cattida il veterano Peppe Giardo che da fuori aria al settantaduesimo con un violento sinistro batte Agozzino ed ha il meritato vantaggio ai suoi. Bellissimo il gol di Giardo che da ex della partita firma una rete importantissima per il futuro della sua squadra. A questo punto la partita vive di momenti all'ottantatreesimo Città con un gran sinistro al volo firma il raddoppio. Spettacolare la rete del capitano Rosso Blu che dà il gol della sicurezza a real calcio e con questi tre punti scala la classifica. Nel prossimo turno c'è lo sconto diretto con la Giappazzi per continuare la striscia positiva e trovare una salvezza che è molto più di una speranza. Per il mistretta falcidiato da squalifiche e infortuni ci sono altre due partite con due squadre che lottano per la salvezza come Iniziativa Sampiro Patti e Sinagra. E quindi mister Randazzo deve cercare di recuperare qualche uomo per onorare un campionato giocato ad alti livelli.